musica con un'altra vittima del logorroico, la giovane e talentuosa Francesca Michielin. Bene cari amici, ben trovati. Almeno lei riuscirà a far sentire la sua voce. Non è la prima volta quest'anno, quest'anno non è la prima volta che un tuo brano diventa una sonora. Beh, questo è un film. Per ora niente, forse per sconfiggere il logorroico serve un po' più di esperienza. Vediamo come se la... Ma arriva finalmente la domanda per Francesca Michielin. Nella scelta del linguaggio musicale e poetico di Francesca Michielin. Ma il logorroico riparte e la giovane cantante capisce che la cosa si farà lunga. Ma c'è chi sta bene, Francesca Michielin che a 3 minuti e 30 secondi è ormai rassegnata al suo destino. Cioè, sognavo questa carriera che prevedeva che sarebbe andata così. Prevedere, prevedere i difficili, sì, perché... Ma finalmente viene tratta in salvo, lasciando il nostro logorroico a bocca asciutta. Non ha risposto alla domanda, noi abbiamo fatto una domanda, chiedere all'egittore, rispondere proprio, sì, no.